Ciao amici di Italia Top Games, giovedì 10 ottobre e le novità in casa PES 2020 oggi sono davvero tanti. Allora, la prima è che è stata confermata la licenza ufficiale della Serie B, lo sapete già, ed arriverà esattamente fra due settimane, il 24 ottobre. Seconda cosa, settimana prossima, giocatori in evidenza e match day dedicato a Liverpool e Manchester United. Terza cosa, 100 monete in regalo che non ci fanno mai schifo, assolutamente. Prima di passare alle novità di oggi, tra cui i giocatori in evidenza e già vedete, vi ricordo che oggi con l'appuntamento del TG Tech si può vincere NBA 2K20 per PlayStation 4, la palla a canestro di 2K Sports. Appuntamento alle 15 su TheLedogames.it per scoprire la domanda in anticipo, alle 16 in diretta o su Simpli Radio, potete sentire via internet dove volete voi. Spero che uno di voi vinca, scusate, questo bel premio, che decisamente apprezzerà chi ama la palla a canestro e i giochi sportivi in generale, soppresti essere un 4, se inizia il codice download, quindi come vincete vi arriva il codice e via un codice solo, ovviamente, per chi sarà più rapido. Tutte le istruzioni comunque le trovate su TheLedogames.it Veniamo a noi, questi sono i giocatori di risalto, ci sono giocatori interessanti, ma li andremo a vedere meglio in seguito. Sto vedendo che non ci sono quelli nazionali, quindi saranno per, scusate, giovedì prossimo, probabilmente. Allora, mi prendo il mio bonus giornaliero di 30 monete, che ci piacciono sempre, e vediamo se troviamo... Oh, allora, 24.000 GP, visto che sono arrivato terzo, sarò di nuovo in divisione 3, pensavo di avanzare, ma a me va bene così, 56 punti non li ho fatti mai quest'anno, e andiamo oltre. Allora, posto in arrivo ci saranno le 100 monete, immagino, eccole qui, e subito subito me le cucco, così casomai facciamo un giro di agente. Allora, agenti, non ci sono oggetti, mi sono sbagliato, stavo su posto in arrivo, eccoci. Allora, agente speciale, European Stars, questi sono 100 monete, si possono girare quante volte volete, però le percentuali sono quelle che vedete, 30, 30, 40. Comunque, diamo un'occhiata, Hazard, Piquet, Griezmann, Oblak, Mbappé, Neuer, Sergio Busquets, Benzema, Cross, Thiago, Bale, Alaba, Dembélé, eccetera, eccetera. E, fate un po' voi, se avete monete da spendere, può essere interessante. Mi sembrano molto più interessanti i players of the week. C'è questo signor Modric a 93, che fa davvero paura, e mi piacerebbe molto verlo in squadra. Anche Alejandro Gomez, 91, anche lui fa piuttosto paura, è meno funzionale per il mio gioco, ma è interessante. Higuain a 90, non poteva mancare, con comportamento offensivo a 97. David Luiz, 90, mi caciufoli. Artur, 90, del Barcellona. Pablo Sarabia, PSG, che sale fino a 89. Ryan, 88. Danfres, del PSV, 88 anche lui. Diffaut, 85. Adama Traoré, 83. All'esame. Oh, questo è un terzino sinistro che potrebbe essere interessante per la mia formazione, soprattutto per la velocità, sale fino ad 87. Quindi sostanzialmente a me potrebbe interessare all'esame, anche se non so se a Spiliqueta, seppur adattato, non possa essere meglio, e anche Modric. Non li giro, non li giro. Ma sì, dai, giriamo, che ci frega. Dai, proviamoci, vediamo che succede. E vediamo chi mi viene fuori, dai. Che anche Modric non sarebbe male affatto. Vediamo che succede. Cioè, queste 100 monete in regalo, utilizziamole subito. E vediamo che capita. Dove andiamo? Andiamo in Spagna. Modric, dai, Modric, 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 Modric. No, e non è Modric. E vabbè. Di chi si tratta? Arthur. Arthur era 90. Non è assolutamente male, però adesso vi faccio la mia squadra e capirete perché difficilmente potrà giocare Arthur. Avento familiarità. Allora. Ve lo mostro subito. La mia squadra. Gestione squadra. Ecco. Ho Milinkovic-Savic già un po' livellato. A livello 8. 91. Verratti 91. E Pogba 90, ragazzi. Quindi. Comunque questa è la mia formazione. La Font. Romagnoli ha giocato a schiera in forma rispetto a Chiellini. Piché. A Spiliqueta. Che è un TD. Ma lo ha dovuto per forza di cosa adattare a far giocare a TS. Ma comunque 84. Moni è 89. Verratti e Savic con Pogba a seconda della partita. Bernardo Silva. Per Cisungo. O a volte Belma. Gioca quasi sempre per Cisungo alla fine della fiera. De Bruyne 94. E Cavani che ha scalzato Lukaku. Mi ci trovo meglio con Cavani. notevolmente Benzema non gioca mai. È sempre fuori forma. E poi in panchino pure Candreva. Anthony Lopez. Adesso è arrivato proprio adesso Arthur. Che è il primo delle riserve. Idem Pianic che ha 90 ma sul CC dopo cala un po'. Morata non gioca mai. Idem Shara. Idem Delict. Idem Fernandinho. Idem Royce. Idem Bruno Fernandes. Idem Koke. Ragazzi. Quelli sono i posti. Poi sto cercando di livellare Joao Felix. Sono a livello 13 ma ancora sta 84. Prima di sostituire De Bruyne ce ne vuole. Ce ne vuole. Idem anche Ansumane Fati. Che ho livellato a livello 19 ma come CLS rende pochissimo. Scende a 78. Quindi Parci, Sung e Bale sono tranquilli. Scusate questa regressione ma ogni tanto mi piace mostrarvi la mia squadra. E fatemi sapere cosa ne pensate. Allora vediamo se c'è qualche novità sulle sfide di oggi ma non credo. Non credo proprio. Eccoci la League Challenge infatti è quella di lunedì ed idem presumo la Coppa Challenge Online. No questa è nuova. No l'European National Team. Non mi ricordo se lunedì c'era già questa. Comunque i premi sono sempre quelli. Quindi ragazzi cosa devo dirvi. Questo aggiornamento è molto limitato del giovedì ora ma abbiamo capito che la sostanza arriva il lunedì. Comunque comunque ci sono c'è la gente European Stars e c'è il Players of the Week che ecco io Modric l'avrei preso con molto piacere. Anche un terzino sinistro in ruolo anche come alternativa spirigueta. Non è stato possibile. Mi è capitato Arthur che non è male ma purtroppo è inutile nella mia squadra. Bene questo era tutto. Non do neanche il voto oggi. Diciamo non giudicabile perché giudicare solo i Players of the Week comunque interessanti mi sembra fuori luogo. Però ecco oggi le novità di PES sono state tante ed interessanti. Vi ringrazio sempre per l'attenzione. Con PES ci diamo appuntamento a lunedì se non ci saranno sorprese come venerdì scorso con la Cop Challenge. Ci sentiamo su Simpli Radio alle 16 per farvi vincere NBA 2K20 alle 15. Ve lo ripeto su italiatogames.it la domanda in anticipo e tutti i dettagli per scoprire come vincere questo bellissimo gioco. Grazie per essere sempre di più, essere iscritti al canale e a presto. Ciao.